Per il ciclo serial thriller Pronto, sono Jack Consideralo il tuo ultimo lavoro Si rifugia in un piccolo paese italiano Per costruire un'arma super letale Hai una lunga lista di nemici, Jack E incontra lei Sono una brava persona, però Hai un segreto Violante Placido George Clooney The American Sabato alle 21 Con Iris Grazie